è la tua gopro andiamo dove cazzo va quell'altro hai fatto il taglio? cazzo ormai io lo vedevo che gli partiva al dietro la dh è bella l'ho provata adesso con lui la dh è quella che facciamo sempre oggi non abbiamo fatto ma è la farina avuto più qualche planta è una spirata molto sì in effetti un po' mi mancava con queste condizioni io sto divertendo un bel po' bello morbido tranquillo ti entra nel cambio poi anche l'olo col bagnetto si caggia un bel po' occhio che ti entra nel cambio ho fatto un passaggio ragazzi non vedo un canto bello io raga non ci vedo un cazzo oh dimmi su una easy ti collegamo giù la easy qual è quella che ti collegamo la easy guarda che è difficile c'è un muro l'ho fatto prima sto per rivoltare come hai fatto la easy come deve fare questa invece dimmi su una easy mi piace di più tutto no perché qui c'era con i salti che mettevi la ruota no ah quello si vabbè ma ce n'è uno tanto si vede molto tempo tanto l'ha rifazzata pezzone tra mare da mamma oh 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 No, no, parco tu No, via No, 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 no Dio Aspetta, aspetta Adio Yeah, boy Woo 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 Sì, non è io. non vedo un cazzo adesso prova a metterla ma non lo so assaliamo ragazzi io direi di nuovo a palco rosso mi faccio un bel cuore la biazza e biazza ora voglio dire che mi stia voglio dire no 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 la sa no 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 Sì 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 Sì